Mi parlo oggi da Donegal, molto vicino al confine tra il nord e il sud dell'Irlanda. Questo confine è stato ancora una volta nei notiziari questa settimana, come conseguenza della Brexit e come conseguenza dell'attuazione del protocollo dell'Irlanda del nord. In questo momento, infatti, abbiamo il cosiddetto confine lungo il mare d'Irlanda. È una situazione che sta causando costarnazione, rabbia e anche confusione su come potrebbe essere gestito questo confine e come il confine stesso possa minacciare la costituzione dell'Irlanda del nord e anche l'Unione. Quindi, ancora una volta, purtroppo è il confine, il confine che continua ad essere sempre presente nei nostri pensieri, ma anche nella nostra immaginazione qui, in questi luoghi. Oggi sono qui anche per parlare di Where Dove. È un nuovo lavoro che ho realizzato per questa mostra. Ora, riguarda anch'esso i confini e il nostro rapporto, che è in evoluzione costante appunto con i confini stessi. Devo dire che questa opera è stata concepita nel 2019. In effetti, quell'anno, dopo aver parlato di questo progetto con Daniele Di Luigi e anche con Ann Stewart, che sono i due curatori della mostra, abbiamo concordato che il tema generale della mostra stessa dovesse essere quello dei confini. Questo in un momento in cui la Brexit non era ancora stata risolta. C'era ancora attorno a noi un certo grado di incertezza, qualcosa che constatavo in tutta l'Europa, ma direi in particolar modo in Italia, almeno per quanto riguarda le migrazioni che arrivavano da altri paesi europei, ma in modo particolare dal Nord Africa, proprio verso l'Italia e in parte si dirigevano comunque anche verso altri paesi europei. Ora, devo dire che questo quadro, questa situazione è stata particolarmente aggravata, esacerbata, suppongo, alla luce dell'ascesa del populismo e anche dei governi di estrema destra in Italia e in diversi altri paesi europei. Ecco quindi il contesto, almeno generale, in cui la mostra ha preso forma e questa è anche una parte del contesto che mi ha permesso di concretamente realizzare questo lavoro. Wear Dove è una installazione video su due schermi, quindi usa la forma del dittico, che è una forma che ho utilizzato molte volte in passato, fin dai primi lavori fotografici in bianco e nero che ho realizzato a Derry e al confine tra Derry e Donegal a metà degli anni Ottanta. Di conseguenza si tratta di un formato che mi ha permesso di prendere in esame alcune delle ambiguità, alcune delle differenze e anche diverse somiglianze che esistono fra luoghi diversi. Quindi ho avuto l'opportunità, con questa tecnica, di indagare il linguaggio, linguaggio che viene utilizzato proprio per parlare di queste situazioni, che sono decisamente complesse. Essenzialmente questo lavoro ha due personaggi, se così posso chiamarli, che abitano lo stesso spazio. Due personaggi che si trovano nella stessa terra di confine, anche se sembrano inconsapevoli della presenza uno dell'altro. Sono quindi due personaggi ignari l'uno dell'altro, ma che in qualche modo coesistono. I due personaggi dell'opera rimangono essenzialmente indefiniti. Sappiamo infatti molto poco di loro, sappiamo poco anche della loro storia e anche di come e perché si trovano in questo luogo. Bisogna quindi affermare che entrambi, in qualche modo, condividono un rapporto travagliato con questo luogo. Il più giovane dei due si descrive come una persona in transizione, una persona che si muove tra il passato e il futuro. Quindi è una persona, appunto il più giovane dei due, che sta essenzialmente guardando avanti. Il più anziano dei due, invece, sembra essere in qualche modo bloccato, intrappolato nel suo passato. Sembra essere incapace di lasciarselo alle spalle e quindi di andare avanti. Di conseguenza, per lui, il futuro è una proposta molto diversa rispetto alla proposta dell'uomo più giovane. Uno degli elementi di cui entrambi i personaggi parlano nell'opera è la prevalenza del ricordo, della memoria e, suppongo in particolare, il modo in cui la memoria stessa è collegata al trauma. Questo vuol dire che entrambi i personaggi, anche se, come dicevo, provengono da esperienze molto diverse, hanno questo collegamento con il passato e con i loro ricordi, ovviamente, del passato. Si tratta, di conseguenza, di un elemento questo che è già stato presente in un certo numero di lavori che ho realizzato e che, di nuovo, in qualche modo, questi elementi tentano di affrontare alcune delle questioni irrisolte del passato, in modo particolare in relazione al paesaggio e a diverse località o siti abbastanza specifici, particolari. Ora, suppongo anche che a un certo livello tutti questi elementi, tutti questi tentativi anche di scoprire la presenza che è potente, che è persistente della memoria, ebbene, si tratta di elementi che io ho sperimentato direttamente. Parlo della mia infanzia. Ricordo, infatti, che ci fu un omicidio veramente molto, molto brutale, che ebbe luogo vicino a dove vivo. Si tratta, vedete, di uno di quegli eventi che, in qualche modo, avevano veramente sconvolto, avevano scioccato le persone che abitavano in zona. E ricordo anche che questo avvenimento decisamente particolare, grave, è stato uno di quelli di cui poi la gente ha parlato per molto tempo dopo. E francamente le persone ne parlano ancora oggi, con un certo grado, appunto, di sconvolgimento, di shock e anche di vergogna. Vergogna perché, appunto, quest'evento sia accaduto proprio lì. Comunque, quando avevo 12 anni, era esattamente il 1972, io passavo sempre davanti al luogo in cui avvenne questo brutale omicidio. Dopodiché avevo preso l'abitudine di correre davanti a questo luogo il più velocemente possibile, proprio perché ero terrorizzato di vedere di nuovo questa persona abitare in quel luogo. Avevo paura che il fantasma di quella persona fosse ancora presente in quel luogo, in quell'abitazione. Si hanno degli scorsi fugaci di questi due uomini, fugaci proprio nel senso di al limite del visibile, nel senso che, in qualche modo, non sono praticamente presenti questi due uomini. Ora, in questo senso diciamo che hanno una relazione con la presenza di un fantasma oppure di uno spettro, che peraltro io ho usato in tutte le opere del passato, e qui potrei fare riferimento a Ghost Story, ma anche a Buried. Ora, devo dire di nuovo che, in un certo qual modo, questo senso del paesaggio che custodisce alcuni segreti del passato, vuol dire che c'è un senso di paesaggio che viene inserito, che è incorporato direttamente all'interno di questo materiale. Questo è un senso, è un materiale che è irrisolto, ma, di nuovo, questo materiale è ancora abbastanza presente all'interno proprio dell'opera di cui mi sono occupato. Ora, in definitiva, la specificità del confine in where, dove, è mal definita. È, in un certo senso, frammentaria. Forse è come molte delle nostre esperienze di confini, quelle che non abbiamo mai visto, non abbiamo mai provato, non siamo stati influenzati dalla loro presenza. Ora, questa specificità di confine ci permette di essere, in qualche modo, distaccati dall'esperienza delle persone, le cui vite sono invece direttamente coinvolte dall'imposizione o dall'effettuazione di controlli sui loro movimenti attraverso i confini. Per cui penso che, in definitiva, questa opera riguardi l'empatia. Ora, noi non conosciamo, è vero, la storia completa di queste due persone, non conosciamo neanche esattamente le conseguenze di quello che accade dopo, non conosciamo neanche le loro azioni. È però vero che penso che quest'opera ci chieda di guardare queste due persone, di entrare in empatia, in empatia proprio con la loro situazione e, di nuovo, in qualche modo, di capire che noi stessi potremmo facilmente trovarci all'interno di circostanze assolutamente simili a quelle. Ora, tutte queste certezze, le certezze che noi pensiamo di avere nella nostra vita, ebbene, queste certezze possono cambiare molto rapidamente. È quindi possibile, a mio avviso, trovarsi all'interno di tutta una serie di circostanze impreviste, anche inaspettate, circostanze che sono al di fuori del nostro controllo. Ora, credo che sia esattamente questa perdita di controllo, la perdita di controllo nella nostra vita, che spesso è molto, molto vicina a noi. Noi sappiamo che le cose ci possono sfuggire di mano e scivolare via, cambiare molto rapidamente in circostanze politiche ed economiche volatili. Grazie a tutti.